I carabinieri della compagnia di Vittoria hanno scovato nella casa di un 24enne vittorese oltre 64 grammi di ascici suddivisi in 14 pezzi nascosti in diversi punti della stanza da letto, dal comodino a letto fino all'armadio che era utilizzato dal giovane non solo per gli indumenti ma in maniera alternativa. Inoltre i militari operanti hanno trovato un bilancino perfettamente funzionante e materiale atto al confezionamento nascosti abilmente sempre nella stanza da letto. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Sono scattate così le manette per il ragazzo che è stato condotto presso la caserma di via Garibaldi dove al termine delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, Monica Monego, dinanzi al quale dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio. Ora al vaglio degli investigatori che stanno proseguendo le indagini la posizione del pregiudicato per accertare l'eventuale complicità di altri criminali e la provenienza della droga. La sostanza superfacente sequestrata è già stata inviata presso il Laboratorio di Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa al fine di stabilire nel principio attivo il numero di dosi ricavabili.